Siamo qui con Fabrizio Beco, grande vittoria per l'Alba Roma 3-1, che partita è stata? È stata una partita che avevamo preparato conoscendo il valore e la forza dell'avversario e quindi l'abbiamo preparata molto bene, attentamente, cercando di essere coperti all'inizio e poi siamo stati bravi a sfruttare due occasioni subito che si sono presentate con il nostro attaccante Canepa che ha fatto gol e poi la partita si è indirizzata sul binario giusto e siamo riusciti anche a contenere un po' il loro ritorno dopo il 2-1, attuale poi la terza rete a metà del secondo tempo. Grande intensità, forse anche questa era la chiave della partita? Sì, anche questo, avevo detto ai ragazzi, anche con il mister, che andava interpretato in questo modo perché loro girano molto bene la palla a terra e quindi bisogna necessariamente correre tanto oggi e quindi metterla molto sul piano dell'agonismo e fortunatamente siamo riusciti a tenere botta da questo punto di vista. Grazie a Beko e in bocca al lù per la prossima. Grazie a voi, alla prossima, grazie.